Ben ritrovati amici di UK Watch Italia stiamo facendo un nuovo video di Gakuen in realtà dobbiamo fare una boss fight nella scorsa live avevamo lasciato Medusa l'abbiamo sconfitta nella sua prima forma e adesso dobbiamo sconfiggere nella seconda forma e cacchio ragazzi, sembra una cacca gigante quindi fa un po' impressione ovviamente io cercherò sempre di tradurre quello che dicono e ragazzi, ovviamente pollice su dobbiamo arrivare subito a 30 perché Gakuen ci sta piacendo un sacco Accademia, chiamatelo come volete io direi che possiamo andare subito subito lì boom eccoci qua spero che l'audio non sia tanto alto se no poi al massimo vediamo allora partiamo allora, vediamo un po' cosa ci dice come questa figura travolgente un pauroso ho paura di insegnare immagine in che senso? ancora questo mi sfiderai a combattere? certo che ti sfiderò ok, siamo pronti ci dovrebbe droppare la palla da pallavolo una mascherina e una tuta 350 esperienza dovremmo farcela secondo me dovremmo farcela ragazzi, fatemi sapere nei commenti ovviamente se preferite il video o la live la live sapete che io la preferisco perché interagiamo, parliamo un po' mi direi di iniziare un gabung in che senso? cosa stai dicendo? è febbre mostriamo l'inferno vediamo vediamo un po' io nel frattempo ho livellato un pochino brutta forte togros ok, yay medusona mamma mia che male fa ma ste cagette qua? ah ok la cagette non dobbiamo prenderla aia no 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 non devo curare fa malissimo ragazzi no 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 io mi trasformo trasformiamoci yes bene Maru ma è fecchia ci fa malissimo allarchiamo un po' ma sono fermo ok, non mi ha colpito mamma è già morto non mi sono facendo niente Dai ci penso io ragazzi Tirate messo quello Mamma mia che male Ci metteremo un'eternità Mettelo Dov'è andato? Boom vai 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 Pecchia pecchia Stanno curando un pochino gli altri Sì però dovete evitarlo Nooo è scappato dalla bomba Ottimo Dov'è andato? No mi sono ritrasformato Dobbiamo resistere adesso eh Perché ora ci fa malissimo Quasi è a metà Più o meno Dai ragazzi Ovviamente noi lo picchiamo con la scopa Guarda che sta lì a prendersi le sberle Dai ricaricati Benimaro Ricaricati Che zippo Cosa sta facendo? Cos'è sta roba? Cosa ha fatto? Sti caghetini qua che ha lanciato Cosa sta facendo? Ma adesso continua A colpire così eh Ragazzi non è difficilissimo Adesso qua dobbiamo evitare Fa la rotolata Ok Se l'è preso tutto nei denti però zio Tra poco ci trasformiamo Ok ci trasformiamo Espi Dai la bomba La bomba E se ne va Maledetto Dove scappi? Dove scappi? Bene Le ha perso la bomba lì Aia Sberla mi ha tirato Ok Niente Mi ha preso Quasi morto ragazzi Quasi morto Ed è così che si fa Ed è così Che si fa Guarda quanta roba ci do Level up Siamo al 36 Molto bene Molto molto bene Non so cosa ci ha detto Sto che è troppo veloce Non riusciamo a tradurlo Troppo veloce Però Ce l'abbiamo fatta Dai non è stato difficile Non è stato difficile Ce l'ho fatta Frustrade La prima volta Infatti spero che il video Vi sia piaciuto Dottore Noi ci vediamo probabilmente Per una live Non so dirvi quando Se non riesco a fare live Vi faccio il video Così non vi tengo a secco Di Gakuel Va bene? Noi Noi ci vediamo Mettete like Se non l'avete messo Vi ricordo Di arrivare a 30 In descrizione Trovate Tutti Tutti i link Utili Anche per puni puni Nel frattempo qua ci gustiamo Quello che succede Vediamo un po' Io vi stavo salutando Ma in realtà sta succedendo ancora roba Attenzione Oh Secondo il canale E' wai Sembra che le ragazze Che sono diventate In che senso? Che sono diventate? Evviva Bene allora Sono sicuro Allora sono sicuro Anche Emma Ah ok Perché sono tornate normali Non sono più serpenti Ok giusto Per favore Ogni volta che questo accade Arma finale Posso solo usarla Ok C'è una terza trasformazione Ok Bacana Stupido Quanto potere E' un commerciante di cavallo Un commerciante di cavallo? E' impossibile pregare Per le pietre aperte Perché ha detto Che è un commerciante di cavallo? Ok Ho fatto un contratto Con i libri Che mi hanno dato il potere Un po' strano Un po' strano Un po' strano Un po' strano la traduzione di Google Cosa? In che senso? Cosa intendi? Allora Ha un certo punto detto Mentre si fa sesso Poi Ha tradotto meglio Ha detto Perché è doppio Aspetterò il momento Dell'esaurimento E' morto Ok Gatsu Ok E' tornata E' tornata Enru Enenra Com'è che si chiamava? Natsuki Minami Enra 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 è segnante Sembra che è andato tutto bene Dove riaprire l'app Ci dice adesso Vediamo un po' Cosa dovrei fare? Se rimane così È una scuola What? Questa visione Che ho visto Ah è vero Lui ha avuto questa visione E' vero E' vero L'abbiamo visto Nell'altra live Quindi è diventata realtà Ah beh Però parte un po' di sfortuna Una pietra oscura Oh shit Ah Questo è l'elementale Eh vabbè però Meteogon O Meteorgon Uno dei due Ok Quindi sono solo boss fight Questo gioco Fammi capire un attimo Io vi stavo salutando Prima ma è successo L'impossibile È successo l'impossibile Finalmente questa volta Uno Ovviamente questa volta La mia armata faccia accademica E' inaspettata Ho un lato Il mio amato paese scolastico Si aspetta un libro Sui disastri naturali Questo esposto A minacce Come armi di istruzione E di massa Continuava a cambiare La tradizione È stato creato per portare I studenti Funziona una scorsa Della pittura scolastica Arma segreta Che arma segreta Di me sto parlando Adesso si Scateniamo questa cosa Ok Super coalizione scolastica Gokua Y Ha detto Che cos'è Non lo so Beh Io volevo finire il video E abbiamo finito il gioco Ma 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 Ok Ha detto Se l'è Se l'è Andiamo Se l'è Se l'è Chi Dai vai Andiamo 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 Ah Entriamo Dentro Ma Ma Di cosa stiamo parlando Ma cos'è Sta roba bellissima Ma cos'è Sta roba bellissima No vabbè Sta roba qua È senza senso Io direi Che possiamo Finire qua E Mi sa che carico Subito un altro video Perché sta roba È fantastica Dai ragazzi 30 like Bella lì Alla prossima Alla prossima Alla prossima